amici e lettori di corse di moto bentornati su corse di moto tv il canale youtube di corse di moto un saluto da parte mia da andrea periccioli insieme a me paolo gozzi direttore di corse di moto ciao paolo ciao andrea ciao a tutti grazie per essere qui allora paolo il conto alla rovescia sta per terminare ormai mancano veramente poche ore all'inizio del primo appuntamento stagionale del mondiale superbike una superbike che però si avvicina a questo fine settimana con tante incognite a tal proposito non possiamo non partire dalla notizia delle ultime ore ovvero che su indicazione di firelli complice l'elevato degrado degli pneumatici emerso dai test di inizio settimana la dorna e la federazione internazionale hanno deciso di imporre il pit stop obbligatorio nelle gare lunghe del mondiale superbike di questo fine settimana e quindi ti chiedo intanto come funzionerà e di fatto insomma è stata una notizia un po non è stata appressa come un fulmine a ciel sereno però è una decisione inevitabile dopo quello che era emerso nei giorni scorsi sì diciamo che la tappa di philip island era molto attenzionata dal gommista unico perché a philip island abbiamo una lunghissima sequenza di edizioni condizionate dalle gomme gomme problematiche sotto vari profili qualche anno abbiamo avuto problemi di blister in qualche altro hanno problemi di surriscaldamento sia sul fronte superbike e sul fronte moto gp con differenti fornitori unici è comunque una pista che mette a serissimo rischio la durata e la stabilità di rendimento delle gomme era una cosa emersa dai test pochissimi piloti sono riusciti a fare più di 12 13 giri e quindi gli enti supremi e promoter federazione pirelli hanno deciso di introdurre questa misura draconiana del fletto flag cioè la gara divisa in due il che significa che sommando la super pola res di 10 giri vedremo praticamente cinque gare sprinte praticamente cinque frazioni di gara da circa 10 giri l'uno e quindi cambierà completamente lo scenario e anche l'idea che c'eravamo un po fatti dei favoriti dopo i test ecco ora prima poi di entrare nel dettaglio e nel merito di quello che potrebbe riservarci il fine settimana concretamente che cosa dovranno fare quindi piloti cioè nel caso della superbike non si potrà effettuare più di 11 giri con lo stesso set di pneumatici eh lo stesso provvedimento ricordiamo lo riguarda anche la super sport nel caso loro non si potranno i piloti non potranno effettuare più di 10 giri e per quanto riguarda la superbike inoltre le gare sono state ridotte di due giri sì giri da compiere saranno 20 invece di 22 è stata imposta una finestra obbligatoria di pit stop al nono al decimo o all'undicesimo giro a discrezione delle squadre eh che succede ricordiamo che non si tratta di un pit stop come quelli della formula uno dopo è fondamentale essere veloci è un pit stop a tempo imposto anche questo saranno 103 secondi il tempo che l'organizzatore ha fissato comprensivi dall'ingresso nella pit lane che ricordiamo è una linea molto fuori dalla zona dei box poco oltre il margine della pista eh i piloti devono stare eh non meno di 103 secondi nel tratto appunto di ingresso e di uscita dai box quindi l'abilità dei team quale sarà sarà quella di far uscire il pilota al centotresimo secondo esatto perché ovviamente uscire più tardi significa perdere tempo uscire per in precedenza significa prendere una penalità che verrà determinata da un complicato eh conteggio che è il vantaggio eh diciamo il gap di di vantaggio moltiplicato per cinque quindi sarà comunque una penalità molto pesante in gare che sicuramente finiranno al photo finish con non so quanti sei sette eh non oso pensare a quello che può succedere perché potrebbe essere che la gara finirà con un grande volatone come quella del 2018 quando anche in quel caso venne il posto il flat to flag per motivi di sicurezza di eccessiva usura della gomma addirittura dopo gara uno nel 2018 gara uno venne fatta in condizioni normali cioè sui 22 giri alcuni piloti andarono in crisi con distacchi del battistrada e quindi tra sabato e domenica venne deciso di fare il flat to flag in quella edizione però ricordiamo che il vincitore fu in entrambi i casi Marco Melandri con la Ducati. Speriamo che sia un precedente di di buon auspicio per i nostri porta bandiera eh comunque battute a parte ehm siccome chiaramente dopo i test avevamo già iniziato ad ipotizzare eh eventuali scenari eh nelle due gare lunghe del fine settimana sprint super pole race a parte con questa eh questo provvedimento che impatto avrà sul fine settimana come hai detto tu giustamente prima di fatto le gare lunghe diventeranno due eh super pole race eh sulla carta quei piloti più esplosivi come sono emersi nei test i vari rasgatioglu Bulega possono avere un vantaggio contro magari quei piloti più esperti come magari Bautista stesso che hanno dimostrato di avere nella gestione delle gomme un grosso punto di forza. Sì tra l'altro questa decisione ribalta un po' tutta eh le strategie che avevamo visto anche nella fase di precampionato europeo eh ricordiamo a Gerez e a Portimao eh Bautista si era un po' nascosto aveva sempre concluso le giornate in quindicesima sedicesima posizione fuori dalla top ten perché ovviamente la sua squadra aveva rinunciato al time attack spendendo tutto il tempo possibile per lavorare in virtù sia della durata della gomma sia anche sull'ottimizzazione del peso della zavorra che gli è stata imposta questi cinque chili e mezzo sei per cui questo lavoro un po' viene verificato da questa decisione però non è detto che lo stesso Bautista che sarebbe probabilmente partito con i favori del pronostico in condizioni normali non sia favorito anche con la sosta perché la strategia potrebbe essere tale da metterlo in condizioni di fare una partenza molto veloce e indurre i piloti che sono un po' più in crisi nella durata delle gomme in particolare stiamo pensando ovviamente a Topra ad Alziatioglu costringerlo a spingere molto forte per non perdere la ruota e quindi rimettere in crisi un'altra volta i pneumatici. Dico questo perché abbiamo visto i cronologici dell'unica giornata di test la BMW dopo quattro cinque giri già comincia un po' a soffrire per cui sicuramente una gara che sarebbe stata comunque molto piena di incognite con questa decisione regolamentare ulteriore diventa ancora più aperta a qualunque a qualunque epilogo non mi stupirei di veder vincere Bautista non ci dovremmo neanche stupire di veder vincere Topra ad Alziatioglu a debutto senza scordare come dicevi te i vari bulega velocissimo sul giro secco e Jonathan Ria che al debutto con la Yamada è andato molto forte lo stesso Andrea Locatelli è andato ancora più forte ecco Locatelli più veloce di Jonathan Ria forse secondo me è un po' la sorpresa più sorprendente di questi di questo precampionato cioè dall'inverno fino a martedì scorso. Non dimentichiamoci poi anche un ulteriore elemento di interesse come il ritorno in pista di Andrea Iannone che nei test nonostante una piccola scivolata nella mattinata di martedì 20 febbraio comunque poi al pomeriggio si è attestato su ottimi livelli di competitività portando a casa il quarto tempo insomma anche lui si affaccia al fine settimana sicuramente in fiducia. Assolutamente non dimentichiamo che a Gerez sul passo era stato il più veloce a Portimao c'è stato qualche problema in più a Philip Island visto anche che in MotoGP Andrea Iannone era sempre tradizionalmente velocissimo quindi è una sua una delle piste che preferisce di più mi sembra che questo discorso dei quattro anni di stop sia stato completamente verificato e un po' fugato dall'esito del precampionato abbiamo ritrovato un Andrea Iannone in grandissima condizione in grandissima competitività io diciamo faccio fatica a vederlo fuori dalla top five quindi un Iannone che potrebbe anche lui regalarci un sabato e domenica estremamente sorprendenti. Bene allora direi che che gli elementi non mancano per seguire il mondiale delle derivate di serie che torna in pista ricordiamolo questo fine settimana sabato anzi già questa notte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime sessioni di prove libere poi il sabato spazio a Superpol e a gara 1 l'indomani invece Superpol Race e gara 2 senza dimenticare ovviamente anche il mondiale Super Sport con due gare in programma e tanti piloti italiani pronti a stupire su tutti Montella Caricasula e Maggi che nei test di inizio settimana sono hanno dimostrato di averne veramente parecchia io ti ringrazio Paolo grazie a te Andrea grazie a tutti e buon divertimento a questo punto e buon divertimento ovviamente noi vi consigliamo di restare collegati sui canali di corse di moto per tutti i vari aggiornamenti approfondimenti interviste varie da Philip Island a questo punto non ci resta veramente che dare la parola alla pista e che vinca il migliore ciao